Ciao a tutti ragazzi, io sono SuperData e oggi andremo a fare la reaction ai meme facciamo una prova o no ridere con i meme ok no, no no non ho capito ma no 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 i guess no 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 oh no 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 oh i love toy story oh you resist the police officer why are you police officers? i blew up malaysia your breath paper no questions it's balls on me hmm oh no oh 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 no 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 Chi è tu? Lassi Oh fuck F*** 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 I told you the whole time I used to bring a little shot check to my breast to my forehead and see a revelation Oh! Woo! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eeeh 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 Then cook the pizza See where it goes Uh oh 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 hot hot Ah! 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 I'm burning! Ah! Because oil is discovered in Syria Every night we eat food don't like And we go might A good night Might as well prax is discovered in Syria No! 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 ok ragazzi questo video ho visto soltanto una volta con quello di minecraft dello slender proprio non ce la facevo ci vediamo al prossimo video e arriviamo a 12 iscritti vabbè con un altro guardo i miei video anche senza iscritti ce lo dico 50 like ciao ragazzi